Quinta in programma, premio capodanno, gentlemen e protagonisti in sediolo a cavalli anziani, dopo i filometri a corsa a reclamare, epica nazionale. Sul l'area mede GSM c'è Nicola Tortorella, Nobilis PF, Nectar of Stars, Neva D'Abbio, l'area mede GSM, Nefercoka, Magical Mike, Onyxmash in prima fila, Lavino D'Anzola, Mare Alan, Is Nothing, Nicol P.G., Leopardo Gette, Jubit Koff in seconda fila. Si ritrae Onyxmash, sacco della macchina con l'area mede GSM che supera Neva D'Abbio, veloce anche Nefercoka, dalla seconda fila, Jubit Koff, l'errore di Is Nothing. Si va dopo 200 metri in 14 a 7, si rimette Is Nothing però, in ultima posizione in terza ruota, al comando l'area mede GSM, nei confronti di Neva D'Abbio, a largo Nefercoka, Nefercoka, terzo in corda, Nicol P.G., che precede Jubit Koff, viene via Is Nothing dal fondo del gruppo, 31 e 1, a tirare indietro ai 400 iniziali. Jubit Koff, che lascia la corda per andare in pariglia. Quando l'area mede GSM mette assieme 600 iniziali in 46,8, 15,7 questo paletto, Is Nothing che in terza corsia, prova a migliorare ulteriormente lungo l'arco della seconda piegata. Affianca Jubit Koff, cerca di andare direttamente sulla testa della corsa, che completa gli 800 in 1,27 da 1,18 e mezzo. L'area mede che ha potuto graduare, nella prima parte di chilometro iniziale, arriva Is Nothing, che a parigliani va da B. Si scopre anche Jubit Koff, in anticipo, su Mare Alan ha lasciato la corda a Nicol P.G., schermaglie tattiche all'imbocco della penultima curva, l'errore di Nefercoka, 17,5 il primo chilometro. Si va a 7,50 la conclusione, 15,8 la frazione per iniziare l'ultimo giro, l'area media al comando su Neva da B, per linea interna è ritornato a Nicol P.G., poi Jubit Koff che si impegna, ma con poca convinzione, al lato di Is Nothing, accendere alla leader, 15,3 la frazione, si trascina Neva da B e Nicol P.G. Ha detto basta Is Nothing al pari di Jubit Koff, in mezzo alla pista all'inseguimento c'è Mare Alan, quando si va all'imbocco della curva finale, 14,6 di là, 2,3, un filo abbondante, il miglio iniziale di O, l'area media G.S.M. che si trascina Neva da B, poi Nicol P.G. che lascia la corda quando i cavalli entrano in elretto d'arrivo, l'area media che richiesta braccia e frusta, Neva da B che prova ad anticipare Nicol P.G. a 150 al palo, Neva da E, Nicol che attaccano l'area media che si difende, non c'è spazio per Neva da B, Nicol che rimonta l'area media, Nicol P.G. che probabilmente pizzica, o l'area media G.S.M. galoppa Neva da B che lascia il terzo posto a Onyx Match, 2,33 il rotolo, 29,7 gli ultimi 4, 1,16,5 la media al chilometro, il successo del numero 11 Nicol P.G. con Vittorio Fornaro, il training da programma di Ferdinando Alessandro, i colori della signora Maria Rosa, 40 al secondo posto, termina il numero 4, l'area media G.S.M., terzo il numero 7, Onyx Match.